Brillero, è un Eurovision italiano. Sono molto casata. Io mi aspetto a un super show dagli Eurovision, tanta buona musica. Mi sto preparando tantissimo mentalmente e anche fisicamente. Mi sto allenando la voce, sto andando a correre spesso. Niente, sto facendo tanto promo per la mia canzone. Niente, non vedo l'ora di arrivare a Torino. Non voglio svelare troppo per il mio look, però quello che posso dire è che brillerò e che sarà sicuramente un outfit, un look che mi rappresenta al cento per cento. Sono molto casata. Allora, io sono molto curiosa di vedere Mahmood e Blanco e anche Achille Lauro. Quest'anno credo che è un Eurovision italiano. Il mio singolo, I am what I am, parla dell'amore che dobbiamo avere verso se stessi. È un inno per questa cosa, per l'amore. Ha un messaggio molto forte. A volte dobbiamo prenderci una pausa e ricordarci che siamo perfetti come siamo e che le nostre differenze ci rendono unici. Non ho un vero e proprio rito scaramantico, però diciamo che mi piace stare sola, almeno una mezz'oretta prima di stare sul palco, per concentrarmi. e se qualcuno mi parla divento veramente nervosa. Ci sono tante canzoni che avrei voluto scrivere, però se dovessi scegliere solo uno, sceglierei Shape of You di El Cire. Tre account TikTok che mi piace tanto seguire sono Queen Melody, che sono due gemelle spagnole, con cui ho anche collaborato, Charlie Putt, anche Camilla Cabello. Io farei di tutto per incontrare Justin Bieber. Il mio prossimo EP che si chiama I Am Emma uscirà il 13 maggio e sono così casata, non posso più aspettare. Ci saranno tante sfumature di me dentro questo album, tante emozioni. Non vedo l'ora di farlo uscire e di farvelo ascoltare. È stato bellissimo partecipare alla LiveMTV a Malta nel 2018 e anche 2019 con grandi artisti e mi sono sentita molto onorata di condividere il palco con loro. C'è stato un pubblico enorme, sono stati molto carichi. È stata un'esperienza che non dimenticherò mai e non vedo l'ora di avere l'opportunità di nuovo un giorno per ritagliare il suo palco dalla LiveMTV.